Emilia Romagna è venuta, quindi è la più grande attività per pensare dell'armi nel polvo, soprattutto da un'organizzazione di volontariati. Grazie di aver partecipato, voi aspettate di voi, non si fa, senza nessuno di partecipazione. Io sono di Verona, qualche parte di spostare dalla zona, c'è l'altro referente che è l'Ivo dell'Uno, che è il mio formale di stazione, per collaborare con voi. Dettagli, prima di tutto, anche in ambito sicurezza.